Ci è mancato pochissimo ieri con l'Inter? Sì, penso che sia stata una delle partite più belle che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, però si sa che basta un'occasione a loro e poi sprecare tutto. Però questo è il calcio, dobbiamo sicuramente prendere spunto da questo, non abbiamo mollato neanche sul 2-0 e potevamo magari riuscire anche a strapparli 2-2, quindi vuol dire che ci siamo e questo fa ben sperare per il proseguo. L'Inter vista ieri può mettere in difficoltà la Juventus? Oddio, vista ieri no, perché comunque non hanno fatto benissimo, però l'Inter è sempre l'Inter, può fare la partita perfetta e mettere in difficoltà chiunque. Adesso la Juventus sicuramente non è in un periodo felicissimo e deve assolutamente vincere, questo per l'Inter può essere anche un punto di forza. Come la vedi la lotta a Scudetto? Oddio, adesso dopo la vittoria del Napoli credo che sia più avvantaggiato il Napoli, perché comunque l'entusiasmo che hanno è veramente tanto e soprattutto adesso hanno partite sicuramente più facili che la Juventus, quindi adesso diventa bello vedere come andrà a finire. Grazie.